C'è una particolare tecnica che aiuta a risolvere alcuni problemi dermatologici. Parliamo della fototerapia. A cosa serve e per chi è indicato? La fototerapia è uno strumento che utilizza delle sorgenti artificiali di luce UV che hanno un effetto particolarmente benefico su alcune patologie dermatologiche quali la psoriasi, la vitiligine, la dermatite atopica e le fotodermatosi. Ma anche in realtà patologie un pochino più complesse come i linfomi. Perché sporsi al sole non è la stessa cosa di entrare in questa cabina speciale? Perché appunto come accennavo vengono selezionate delle lunghezze d'onda che hanno un effetto terapeutico maggiore rispetto ai raggi UV a cui siamo sottoposti nel corso della vita. Ci sono delle controindicazioni? Cioè ci sono delle persone che invece non possono essere sottoposte a questo tipo di terapia? Assolutamente sì. Soprattutto pazienti che hanno una storia di neoplasie cutanee o soggetti che hanno patologie cutanee come per esempio lo xeroderma pigmentoso per i quali appunto la fototerapia rappresenta una controindicazione assoluta. Chiaramente anche pazienti che per esempio hanno avuto dei tumori a livello del testicolo diciamo sono esclusi da questo tipo di terapia. Tutto questo viene scongiurato all'ITAC perché c'è una visita dermatologica prima di sottoporre il paziente alla terapia. Esatto.